ciao ragazzi per questo san valentino voglio farvi i miei più cari auguri voi avete un san valentino speciale chi più di voi deve festeggiare il san valentino proprio nel momento in cui state vivendo la vostra storia d'amore perciò augurissimi e poi che dire auguri a wedding tv questa nuova piattaforma che sono sicura sarà un'esperienza bellissima un nuovo progetto in cui si troveranno tantissime informazioni sul matrimonio tanti auguri ciao